buonasera sono frank oggi compio 21 anni volevo un augurio dal maestro semproni che stimo tanto seguo con affetto da parecchi anni grazie come si chiama frank frank tanti auguri e 183 di questi giorni come franguesi nadesi poi sul mercato come franguesi nadesi come franguesi nadesi tanti auguri tanti auguri ci facevo le big money si capite intundi e 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 Grazie.